Ciao ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video Oggi è un concetto un po' diverso Perché ho tutti i capelli scombinati E mi sono tipo tirati indietro Quando gioco al calcio sto così Un po' swag Però ragazzi il video di oggi Faccio la MarciPack e inizio diciamo Un cambio un pochino stile perché Comincio a fare un pochino cose tecniche Ho fatto tanti tanti tagli Nel senso che è molto figo Perché non sto lì tipo Mentre devo andare a prendere la redson Che è nell'altra chest E devo andare di là No taglio e sta veramente bene Quindi spero che questo nuovo stile mi piaccia Mi raccomando lasciate un mi piace per questa serie Decimo episodio Se hai ragazzi 500 mi piace Veniamo farà il video dove vi spiegherà Come fare tutto sistemare il pacchetto Eccetera eccetera Quindi ragazzi vi lascio all'intro Bella Marchi burlone Ciao a tutti ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della MarciPack Finalmente dopo tanto tempo di assenza Eccoci qua E ragazzi vi chiedo subito di lasciare un mi piace Perché se no voi birichini birichini ve lo dimenticate Comunque oggi Allora prima di tutto non mi ricordo Ah si Che mi è tornato in mente tutto Allora Un paio di commenti importanti Visto che Dicevamo stasera dei commenti Che metterò in sopra la visione Partiremo dal prossimo episodio Allora Oggi è anche il decimo episodio ragazzi Quindi Esigo 600 mi piace Li voglio ragazzi Li voglio Yeah E Ora mi metterò d'accordo con Mnemonic Per farvi vedere il tutorial di installazione della MarciPack Perché ci tengo veramente Quindi fatemelo sapere con un bel like Se lo volete Magari lo avrete già a sti episodi Comunque Iniziamo subito Allora L'altra volta se vi ricordate abbiamo piazzato la tartola Io l'avevo lasciato lavorare tutta la notte Però non ho guardato sinceramente Che cosa mi ha dato Quindi lo guarderemo assieme Ma che cazzo Ma poi dai Non è neanche malaccio Però mi aspettavo qualcosa di più sinceramente 30 Beh 30 pezzi di ferro mi fanno più Oh che cazzo Non l'avrò accorto Dei blocchi di diamante Oddio Allora Apriamo sto sondaggio Stroppo In descrizione ragazzi Dovete dirmi Quale Delle due opzioni Vi piace di più Ovvero Tenere questa cosa qua Giga enorme Bellissima Nell'universo O farci una casa tutta nostra Che effettivamente Ragazzi Non avete tutti i torti E potrei farla in live Un giorno Anche se la qualità del mio live Farà schifo Però potrei farla in live Allora Adesso Cominciamo un pochino A fare la Thermal Expansion Perché Perché la Thermal Expansion È la mia mod preferita Lo sapete già tutti Perché l'ho fatta Anche nella Nella Warcraft Però ci tengo a rifarla Perché Voglio fare appunto Un generatore di Cerco all'infinito Che è una cosa Ragazzi Che non so Chi l'abbia fatta Sinceramente Comunque Ci servono questo Questo E l'Aqueos Accumulator Se non mi sbaglio Sapete che non mi ricordo Poi si dipende Da stile Dynamo E uno di cui è Allora Adesso Cominciamo a farci Queste cose qua Redstone Fournays Ci servono dei brick Quindi Andiamo subitissimo A prendere Della clay Della clay Quindi facciamoci subito Una bella pala Guardate ragazzi Io la faccio in diamante Perché Popopopone ho poco E quindi si Comunque c'è un pochino Di inventare Disordinato Sistemiamolo Ok Direi che così Siamo abbastanza vuoti E va abbastanza meglio La clay La clay Quella è clay Giusto? Questa è clay Sì Questa è clay Perché Guardate che brutto Che è Proprio Brutto Allora Prendiamo più clay possibile Che è importante No ragazzi Questa cosa Non la sapevo Che galleggiavano Mi sa che abbiamo Che ho fatto mettere Quella dynamic Non mi ricordo Come si chiama Come mod Però è strafiga È bellissimo Stupendo È bellissimo Non è il cifrono Oddio Oh mio dio Mettiamo a pochino Ste merve Non ho una fornace Non ho una fornace C'è 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 Ma tu stai scherzando Spero Allora facciamone un paio Cosa almeno Siamo ben bene Siamo ben bene a posto E vaffanculo 25 25 Però non abbiamo il carbone Non abbiamo il carbone No serio Carbone Carbone No dove sei Carbone Non ce l'ho No serio Non ho il carbone Stai scherzi No dai Devo usare questo Facciamo così Facciamo così Facciamo così Provisoriamente Allora Cosa ci serve altro Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Ci serve Un machine frame Questo possiamo già farlo Stealing Ah ok Si può usare anche l'iron Perfetto Mi stavo prendendo già un colpo Allora Glass Ferro E ci siamo Questo ce l'ho Il glass Non ce l'ho Però possiamo metterla a cuocere Quindi altra Altra fornace Le fornace Ragazzi Sono l'ordine del giorno Mettiamola tipo Qua Allora qui ha finito 3 3 Basta ne avanzano Ne mettiamo Un paio qui Finiamo di far questo E in questa qua Ci mettiamo a cuocere il vetro Perché 16 pezzi Basta ne avanzano Almeno li teniamo un po' in seguito Ok Ci sta Ci sta Riesce a finirlo Si Ce la fa giusto Giusto Perfetto Perfetto Quindi qua Cosa mettiamo a cuocere Cosa mettiamo a cuocere Ragazzi Cosa mettiamo Allora niente Qui non mettiamo niente Poi ci servono Redstone Recept Questo possiamo craftarlo subito Perché gold Per fortuna Ne abbiamo abbastanza Redstone Ne abbiamo abbastanza Quindi dovrebbe farsi Così E così Ok E un elementino Ce l'abbiamo Poi 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 Vediamo quante ne possiamo fare Cinque Già ne possiamo fare uno Qui non facciamo niente È un episodio bellissimo Era tantissimo Che non facevo queste cose Mi sto divertendo un fuggio Allora Ok Ok Dovremmo farcela Perché tanto qui avrà già cotto Un po' Ok Allora così Si fa Tac 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 Perfetto Abbiamo un altro pezzettino Li mettiamo qua tutte e due assieme Ok Ti ho preso Ti ho preso Ti ho preso Non ti ho preso Madonna mia Questa non se ne va proprio Davvero fastidio Se ne ho una cosa del genere Ok Non vi sento più Bastardi Ok Allora Dobbiamo Dobbiamo Fare Ah se schiaccio Ok Perfetto Ok Ce l'abbiamo I brick Perfetto E ne abbiamo due Poi ci serve Ci serve Due copperi Che forse li ho già Smeltati Però vabbè basta che facciamo così Tattico Facciamo così Ok E basta E basta Perché ci serve due copper Questo Questo Ce l'abbiamo Redson Perfetto Perfetto Però Che io sappia Facciamoci subito Un Un'ascia L'ascia Non mi ricordo di averla fatta in Cosa Quindi vabbè tanto diamante Ne abbiamo talmente tanto Che muoio Veramente Ok Lo mettiamo qua Facciamo così E io se mi ricordo bene Se c'è la Tinker Castruct Per l'appunto Possiamo farci questa cosa qua Che Io ecco infatti Vedo le cose di fianco Sfigata Assurda Figata Assurda Allora Sì Ma costruiamo alla fine sta cosa Tac Tac No Manca ancora Ok infatti Copper ce l'abbiamo Che sono appunto della Tinker Questi qua Così Poi Questo Questo E ci serve una Redson Perfetto Eccolo qua Redson Fornese Fatto Poi Ci serve Il Pulverizer Comunque Allora Questo Pulverizer È un po' un casino Perché Allora Qui ne ho due Usiamo sempre questo Questo E mi manca E mi manca E mi manca Il pistone Ok Era Qui Ok Sì Lo so fare Lo so fare Lo so fare Aspetta Era legno sopra Legno sotto Non mi ricordo Chissà che era il contro Ma Non me lo ricorderò mai Ragazzi Cioè È contro di me No L'ho fatto al primo colpo L'ho fatto al primo colpo Non ci credo Non ci credo Comunque Così 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 Poi la flint Così E servono questi due qua Perfetto Perfetto ragazzi Abbiamo fatto anche il Pulverizer Però voi direte Ma Marci Ma come farai a fare L'energia Ci vorrà lo steam Dynamo Lo steam dynamo Che si crafta molto semplicemente Con i copper gear Bastardi Sti copper gear Che mi fanno perdere un macello Di tempo E mettiamo a cuoce Mettiamo a cuoce Allora ci serve anche Ci serve cibo Innanzitutto Comunque dobbiamo tornare ragazzi A casa Perché Abbiamo bisogno Di silver Ok Ora vi toglierò un pochino i pezzi Perché è un po' un casino E vedrete tutto fatto Oh Ragazzi ragazzi Due pezzettini Ci sono almeno qua Proprio quelli che ci servono Perché non ho tin È assurdo Ma non ho tin Comunque ci ha beccato quest'ape Della cacca Ciao Ok Ok Allora No 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 Allora Tin ci serve per questa cosa Tin redstone Perfetto Perfetto Proprio Una minghiata Allora Mettiamolo Non l'ho preso Scusa Ah qua ecco Ho fatto un colpo Ok Ok Guarda Ragazzi La query è proprio santa Mi ha salvato ancora Perché avevo finito La redstone giusta giusta Che mi serviva appunto Per fare Con la bacchettina lì Per lo steam dynamo Comunque Allora L'impianto lo faccio Lo faremo nel prossimo episodio Perché voglio comunque Lasciarvi un po' di suspense Un po' di suspense Comunque lasciate tantissimi like Perché comunque Nel prossimo episodio Penso proprio che Faremo Il dolor della mappa Spero comunque Perché comunque È abbastanza figa Come cosa Cercheremo di fare Tantissimo tecnico In questa serie Perché Lo voglio fare L'avventura Nella serie con gli altri Con la Corruptor Con Vegas Con Eren Con Ali Con Danny Con Pezzo Con Sbabidi Bubidi Sì Sì sono pazzo Sono pazzo anch'io Danny mi ha Mi ha attaccato La pazzaggine Quindi ragazzi Scusatemi Allora no In questa qui Dobbiamo fare questo Questo Qua Ok Abbiamo anche lo steam Dynamo Perfetto Che poi uno Non ci basterà sicuramente Però vabbè Per iniziare Poi Ci serve L'hardenest Hardenest Non è hard Ecco di qua Sì Doveva essere hard Energy Conduct Tutti questi qua Dovrebbero essere Perfetto R O Ledson Energy Conduit Ah no Forse con il ledson Va bene Sì sì Questi andavano benissimo Però il lead Non lo abbiamo Quindi ragazzi Farò lavorare La query Ancora un pochino Adesso Nel senso che Ora vado a cercare Un po' di carbone A casa Perché dovrei averlo Nella casa vecchia Un po' di carbone Se non lo ho Andrò a scavarlo Di persona Perché vabbè Metterò la La turtle Penso che comunque La farò scavare Un bel po' di più Nel senso che Almeno lo lasciamo aperto Nel prossimo episodio Facciamo questi Energy Conduct E riusciamo A fare tutto Per bene Così almeno Abbiamo tutto Effettivamente Quindi ragazzi Lasciate tanti bei pollicioni In su Spero che questo Nuovo stile Di far video Con più tagli Perché comunque Una serie tecnica Con Una serie tecnica Senza tagli Secondo me È un pochino Noiosa da vedere Personalmente Ho guardato molte serie tecniche Io ho Da tanta gente E anche gli americani Ragazzi mi stanno Veramente stancando Perché Penso che comunque L'evoluzione di minecraft Sia stata grandissima Ovvero che Gli youtuber Secondo me dovrebbero Prendere tutti Il piede dei tagli Nel senso che Pochi youtuber Che fanno minecraft Veramente grandi Tagliano molto I video Nel senso Per avere un Linguaggio pulito Io personalmente Ragazzi Ora farò un tagliettino Così vi dirò Personalmente Quanto ho registrato Fino ad ora Per fare vedere Questo episodio Ho registrato Circa Mezz'ora Più o meno Tra tagli Tutte varie E ragazzi Io non posso Caricarvi un video Di mezz'ora Cioè capite Che un video Di mezz'ora Non è stancante È una cosa È bruttissimo Un video di mezz'ora Vederlo tutto Mentre io vado A cercare la red Tipo ora Adesso per esempio Ora non taglierò Perché voglio farvi capire Se tipo ora Dico ragazzi Andiamo a prendere la red Sto zitto un attimo La trovo Bene l'ho trovata Io taglio il pezzo In cui vado a prendere La redstone Perché alla fine Ragazzi È inutile Che ci sia Quelle pezze In cui Io vado a prendere Le cose Nel senso È inutile È bello Quando voi vedete Tutti i crafting Che io faccio tutto Alla fine Penso che comunque L'episodio di oggi Sia stato molto bello Allora Per quanto riguarda La sky factory Se vi ricordate Lì non tagliavamo Ma perché non tagliavamo Perché eravamo in quattro Ed era figo Sentirci parlare È inutile tagliare Un episodio del genere Magari posso tagliare Le parti un pochino Più noiose Ma è raro Che tagli in quella serie Comunque ragazzi Vi ricordo Il sondaggio In descrizione Allo stroppo Il che dovete fare Casa nuova Casa questa qui Mi raccomando Lasciate un mi piace Un commento Da macchia di tutte Che lo suoi che sia con voi Bella